RITA Sangue, morte, lacrime, dolore! Eeeeeeeh! Che tragedia! Il illustrissimo dottor Porsellino Mia figlia è minorenne, ha 17 anni e 4 anni si compiude e io non lo so quello che succede, io sono moltissimo preoccupata Ma se loro vorranno mi troveranno e mi uccideranno, non mi importa, mi hanno tolto tutto ciò che avevo al mondo IN GALERA E come stai Rita mia? Come stai? O fare così, non ti preoccupare Non essere nervosa La mafia siamo noi E' il nostro modo sbagliato di vivere e di comportarci Tu, con quella testa rovesciata, con quella bocca spalancata, di che giustizia parli? Ragazzina malata di vendetta, di che giustizia parli? Ma che ti è successo? Perché? Perché? Che ti è passato nella testa? Ma non ho favata! Lo scanno di proiettili! Dove sei? Sola? In GALERA! Sola? Corsellino la so la verità! Undici anni! RITA RITA RIT BOR incorrecta